Poi, le Lush, seguendo da vedere sul sito, messe un altro prodotto per le mani, che però non è precisamente tra le creme mani, cioè non è nella sezione riguardante le creme mani, ma è nella sezione riguardante i balsami corpo. Ed è infatti un balsamo che è questo qua, questo qua, lo potete trovare anche più arancione, quello che avevo preso il mio una volta prima era più arancione. Si chiama Mano Nella Mano ed è un balsamo corpo che in realtà appunto è creato per le mani, chiamandosi Mano Nella Mano ovviamente, costa 9,95 euro e sono 90 grammi. Sul sito della Lush mi dice o di lasciarlo in posa durante la notte o da usarlo come crema. E' comunque unto, perché è un balsamo corpo, quindi è composto prevalentemente da burri. Il primo ingrediente della lista è il burro di cacao, quindi è comunque unto, c'è dentro anche il burro di carité, c'è dentro il mango, c'è le bacche di vaniglia, l'olio di palma, l'olio extravergine di cocco, la cera d'api, l'olio di germe di grano, l'olio di soia, l'olio di avocado, l'olio essenziale di cardamomo e vai con l'ambulanza! Ok, quindi è ricco proprio di ingredienti molto molto nutrienti, quindi ovviamente è da utilizzare proprio la sera prima di andare a dormire. Scusate il casino, stanno lavorando fuori dal mio palazzo, io mi sveglio la mattina con questi simpaticissimi rumori, appunto. Comunque, dicevo, è molto unto, quindi da usare assolutamente prima di andare a dormire. Io vi consiglio però per questo prodotto un utilizzo alternativo, perché sì, per le mani ha un... cioè è comunque buono quel prodotto, però io ve lo consiglio come dopo sole, come dopo sole è fantastico. È veramente ottimo, me lo passate su tutto il corpo e vi idrata tantissimo e vi mantiene un sacco l'abbronzatura. Non vi fa assolutamente spellare o screpolare. Quindi veramente un prodotto ottimo anche come dopo sole. Questo è l'unico alternativo che ha inventato la sottoscritta, con degli sperimenti. Comunque, no, veramente è molto 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 buono anche come dopo sole. Io ormai lo uso quasi esclusivamente per quello, perché la mia crema mani è la Gurugu. La mia crema mani prediletta. Comunque, niente, questi sono i prodotti Lush dedicati alla cura delle mani. Io spero, come al solito, di esservi stata utile, di avervi dato magari una piccola mano a scegliere. Se voi poi avete delle domande, scrivetele. O qua sotto, o in privato. Io rispondo sempre, assolutamente. E niente, vi saluto. Vi mando un mega bacio, come al solito. E alla prossima. Ciao! E' questa. Scusate le spalle. Sì, di cui è fatta? Mi sa che era scaduta. Sì, di cui è fatta? Sì, di cui è fatta. Ah! E mo? Perché il mio ragazzo non mi chiama? No, cioè, voi sapete perché il mio ragazzo non mi chiama? Ma spiegatemelo, perché non mi chiama? Perché è un ragazzo cretino? Uomini! Ciao! Sono un latte! Ciao! Volete vedere anche voi il mio acquario? Eccolo! Con la bottiglietta d'acqua davanti, ovviamente. Sono i miei pesci! E' su Facebook, ovviamente, eh? E' notica questa musica. Sì, ha scoperto! E' un'altraبة. Sì, dove la chiama? Sarva, salva! Sono un'altra cosa. E' un gioco. E' un gioco, è un gioco. E' 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 un gioco. Grazie a tutti.